Qui con Nicole Romero dopo la vittoria contro Bologna, oggi è stato un gioco molto difficile, come lo viste? Sì, viviamo per questi gioco, quindi aspettavamo un gioco difficile. Bologna è ovviamente uno dei tanti più difficili nella competizione, quindi per ottenere la vittoria oggi è ovviamente positivo e spero di andare in la direzione giusta. È stato molto bello avere questo tipo di pubblico oggi, l'audienza era bella. Sì, 3 o'clock! Sì, è stato molto bello, perché vedo che gli italiani piace il loro gioco, quindi sono felice che hanno fatto un gioco early e venivano al gioco per supportare noi. È bello. Hai qualificato con la squadra nazionale per l'Eurobasket. Sì. Come è stata questa esperienza con la squadra e la Slovacchia? Sì, è sempre un honore di portare l'Azuri, quindi ogni volta che vengo fuori, è un piacere di giocare con tutti i migliori giocatori in Italia. e, ovviamente, qualificiamo per l'Eurobasket. E ho il piacere di giocare per la squadra nazionale, quindi è molto bello. Quindi è bello. Quali aspettate dal prossimo anno, dal 2023? Sì, spero che l'Italianza è il mio obiettivo. È il mio obiettivo. È il mio obiettivo. È il mio obiettivo di giocare per Ragusa, per ottenere il mio obiettivo. E anche per avere l'alimentazione durante la squadra. Sì, vorrei parlare a qualcuno per avere una gara di 3 o'clock ogni volta, quindi funziona per la nostra avventura. Grazie mille.